O stiamo a parte o a un'altra. O nirò bianco, sì. Io non sto con nessuno. Oh, ma se ci c'è una corsa! Tutto a posto? Come si sta comportando? E se non fu io. Ma che lo devo dire? A tempesta, a tempesta! Eva, ti aspetto, va? Ragazza, qui non c'è! Ehi, ah, questo! Veronica, come ti trovi sull'isola? Credo proprio che mi ha cambiato la vita. Ecco, Salvatore, come ti trovi? Grazie. Grazie.